Fin dall'inizio, la Confederazione Generale del Lavoro si configura come organizzazione basata sulla solidarietà generale tra lavoratori e non soltanto sulla rappresentanza di mestiere. Un ruolo importantissimo in questo senso è esercitato dalle Camere del Lavoro. Esse svolgono funzioni di unificazione della classe operaia e di coordinamento presindacati. Gestiscono il collocamento al lavoro e la formazione professionale, grazie anche ai sussidi erogati dalle municipalità, prestano assistenza nelle controversie di lavoro. Sono anche luoghi di educazione e emancipazione delle classi lavoratrici. Nelle Camere del Lavoro si insegna anche a leggere e scrivere e si organizzano biblioteche popolari. Analogamente, la Confederazione Generale del Lavoro si caratterizza per una struttura fortemente centralizzata e, a differenza delle trade unions inglesi e dei sindacati tedeschi, l'idea di Confederazione Generale prevale su quella delle singole federazioni di categoria. I rapporti con il Partito Socialista vengono regolati da un accordo nazionale di collaborazione, in cui vengono distinte, almeno in teoria, le reciproche funzioni e autonomie. Nel primo decennio del nuovo secolo si realizzano importanti conquiste nell'ambito della legislazione sociale e si affermano significative esperienze di contrattazione territoriale e nazionale. Il governo Giolitti vara le prime leggi di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, decreta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, regola il riposo settimanale e impone il divieto del lavoro notturno in alcuni settori, riforma e implementa la Cassa Nazionale Invalidità e Vecchiaia, primo embrione del futuro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si firmano i primi contratti collettivi di lavoro con le aziende o su base territoriale. Nascono le prime forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro, le commissioni interne. I contratti aziendali alla Società Automobilistica Italia di Torino e alla Borsalino ne legittimano, poco dopo la nascita della Confederazione Generale del Lavoro, l'esistenza. Nel 1908 viene siglato il primo contratto collettivo nazionale di lavoro da parte della Federazione Vetrai. Parallelamente, in conseguenza del crescere dell'organizzazione sindacale, si formano le associazioni territoriali padronali, fino alla nascita nel 1910 della Confederazione Italiana dell'Industria. Il cauto riformismo del governo Giulitti subì una brusca inversione di tendenza con la guerra di Libia, 1911-1912. Nel segno di un nazionalismo aggressivo e reazionario, riprendono le repressioni poliziesche contro il movimento operaio. Importanti conquiste vengono messe in discussione, come il contratto nazionale dei vetrai e il riconoscimento delle commissioni interne. La Confederazione Generale del Lavoro, che si oppone alla guerra coloniale, è indebolita da una pesante scissione. Gran parte dei sindacalisti rivoluzionari formano l'Unione Sindacale Italiana, che a sua volta subirà una scissione da parte dei sindacalisti interventisti, favorevoli cioè all'entrata in guerra dell'Italia nel 1914. La situazione peggiora con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La Confederazione Generale del Lavoro proclama manifestazioni contro la guerra in tutto il Paese e appoggia il gruppo parlamentare e socialista che non vota i crediti di guerra. Quando l'Italia entra in guerra, viene decretata la mobilitazione industriale. Le industrie di importanza strategica sono sottoposte a disciplina militare e viene abolito il diritto di sciopero. Anche la legislazione sociale introdotta nel periodo giolittiano è di fatto abrogata. Su tutto prevale l'enorme macello di milioni di giovani che insanguina fino al 1918 gran parte dell'Europa. Alla fine della guerra, le tensioni accumulate durante il conflitto, le promesse combattenti non rispettate, l'inflazione spaventosa determinata dalla mancanza dei generi di prima necessità innescano una formidabile ripresa della conflittualità sociale e delle rivendicazioni sindacali. La forza organizzata dalla Confederazione Generale del Lavoro, alla cui guida è stato eletto il riformista Ludovico d'Aragona, cresce nel biennio rosso, così viene chiamato quel periodo, dai 250.000 iscritti alla fine della guerra a oltre un milione nel 1919 e 2.200.000 nel 1920. Nel tumultuoso clima politico e sociale del dopoguerra, su cui agiscono con forza anche le suggestioni rivoluzionarie ispirate dalla rivoluzione sovietica, si ottengono grandi conquiste. Nel febbraio del 1919, la FIOM, diretta da Bruno Buozzi, realizza la storica conquista della giornata lavorativa di otto ore. A Torino, per impulso del movimento di ordine nuovo di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, si impongono nuovi strumenti di rappresentanza operaia sul modello dei soviet bolshevichi, i consigli di fabbrica, che dirigono lotte straordinarie come lo sciopero delle lancette alla FIAT. Nel 1920, la FIOM presenta agli industriali un memoriale contenente rivendicazioni salariali e normative. Dopo il rifiuto dei padroni a trattare, si arriva rapidamente all'occupazione delle fabbriche, che coinvolge circa 400.000 operai. Il movimento si divide fra chi vuole dare alla lotta un carattere rivoluzionario, e in tal senso si orienta la maggioranza massimalista del Partito Socialista, e chi vuole limitarla, come il vertice della Confederazione Generale del Lavoro, ai soli contenuti sindacali. La decisione definitiva aspetta al Consiglio Nazionale della Confederazione, che approva con una maggioranza del 54% la posizione del segretario generale d'Aragona, favorevole a una conclusione sindacale dell'avvertenza. L'occupazione delle fabbriche del settembre 1920 chiude con una dura sconfitta il biennio rosso, e la sperrima reazione padronale non si fa certo attendere. I grandi gruppi industriali decidono di finanziare il movimento fascista fondato da Mussolini, già direttore dell'Avanti, e espulso nel 1914 dal Partito Socialista a causa delle sue posizioni favorevoli all'intervento dell'Italia nella guerra che si stava scatenando in Europa. Sostenuti anche dai padroni agrari contro le lotte dei contadini, i fascisti si scatenano contro le sedi delle Camere del Lavoro, delle cooperative del Partito Socialista, e dai comuni amministrati dai socialisti in un clima continuo di aggressioni, incendi e omicidi, spesso protetti dalle forze dell'ordine. La risposta allo squadrismo fascista è debole. Il Partito Socialista è lacerato da contrasti interni che culminano con l'ascissione al Congresso di Livorno dell'estrema sinistra e la fondazione del combattivo, ma ancora piccolo, Partito Comunista d'Italia. Siamo nel 1921. La vecchia classe politica di orientamento monarchico e liberale apre di fatto le porte ai fascisti nell'illusione di poterli controllare. La Confederazione Generale del Lavoro e il Sindacato Cattolico sono indeboliti dall'aumento progressivo della violenza fascista e dalla crisi economica che gli industriali utilizzano per riprendersi le concessioni strappate con le lotte del Biennio Rosso e a nulla vale un tardivo tentativo di alleanza. Nell'ottobre del 1922 la monarchia favorisce l'avvento al potere del partito fascista, ancora largamente minoritario nel paese, chiamando Mussolini a formare il governo. Nel suo discorso per ottenere la fiducia Mussolini proclama di fronte a tutti il suo disprezzo per la Costituzione e il Parlamento che infatti verranno rapidamente smantellati negli anni successivi. E nel 1924 il delitto Matteotti, un deputato socialista assassinato dai sicari fascisti su mandato di Mussolini, è il pretesto per varare leggi eccezionali dirette a realizzare la dittatura fascista. Con il patto di Palazzo Chigi 1925 e con il patto di Palazzo Vidoni 1926 il regime fascista e la compindustria stabiliscono il riconoscimento giuridico del solo sindacato fascista. Contemporaneamente viene praticamente eliminata la libertà di espressione, di associazione e di sciopero. Il primo novembre del 1926 la sede centrale della Confederazione Generale del Lavoro a Milano viene devastata dai fascisti. Poco dopo, all'inizio del 1927, il comitato direttivo della Confederazione decide l'autoscioglimento. Molti dirigenti sindacali della Confederazione, in polemica con la decisione di autoscioglimento, decidono di tenerne vivo il nome. Così Bruno Buozzi esole in Francia, così dirigenti sindacali comunisti clandestinamente in Italia. Ma per molti anni, sotto la cappa del regime fascista, non esisterà più la possibilità materiale di organizzarsi liberamente in sindacato dei lavoratori.